Quest'anno, Flexcom, ha il progetto di aprire una serie di paesi in Europa, se ricordo bene poi mi correggerà il limite Ivan dopo, sono circa 20 i mercati, quindi le nazioni previste per quest'anno come apertura, le prime sono Germania, Svizzera, Austria, Olanda e Belgio. L'Inghilterra ha appena aperto, quindi ufficialmente l'Inghilterra è partita in Europa, è stato in effetti il primo paese europeo dopo il test della Turchia e a brevissimo parte l'Olanda e così a ruota Germania, Svizzera e Belgio. Noi come Italia al momento non siamo ancora in partenza, stiamo facendo noi questo lavoro di richiesta di apertura all'azienda, l'azienda è non ben disposta, più che ben disposta ad aprire il mercato italiano, tra l'altro il nostro caro Ivan ha addirittura già incontrato il signor Asker Sakimas, l'ha incontrato personalmente ad Amsterdam durante, poi magari avrà modo lui di dirvi due parole su questo perché ci ha portato grande entusiasmo da questo incontro e il signor Sakimas che ricordo è CEO Europa di Flexcom ha detto proprio a noi italiani, quindi nelle vesti di Ivan come rappresentante nostro, ragazzi noi vogliamo aprire l'Italia assieme a voi, è un paese a cui teniamo molto e sta a voi fare il lavoro ma noi vogliamo darvi la possibilità di farlo. Bene, vediamo velocemente cosa è successo in Turchia, l'abbiamo detto prima, in 10 mesi 22 mila franchising partner fino ad arrivare a 3 milioni di carte clienti e per le persone che hanno lavorato in Turchia è successa una cosa, ci sono stati 6 presidential team, cioè c'è tutta una serie di scale